Il prefetto di Potenza Filiano, in visita al Museo Carpini. Una sua impressione? Intanto dicevo prima al sindaco e a chi ci ha accompagnati per questa visita, che è una scoperta incredibile, dimostrazione del fatto che la provincia di Potenza non finisce mai di stupire. Cogliere in questo angolo della nostra provincia anche la presenza di tratti, di passaggi assolutamente unici nel panorama della storia dell'uomo, che danno addirittura il segno dell'inizio dell'incisione della scrittura, non finisce di stupire, ripeto, sul fatto che questa è una provincia piena di bellezze, che vanno probabilmente anche valorizzate ulteriormente, vanno opportunamente veicolate, per fare in modo che anche occasioni come quelle di questo museo, qui a Carpini, possa invertire, veniamo a uno dei punti, dei temi caldi di questa provincia, invertire il percorso dello popolamento delle nostre aree interne. E quindi sono contento di essere qui in questa occasione e di aver avuto modo di conoscere una parte della nostra provincia, della provincia di Potenza, che per i tesori che nasconde ancora sconosceva.